Italiano in test, livello B2 10 test di autovalutazione per la certificazione linguistica Maria Chiara Naldini Aristotele Sdroglias Michali Sideris Publications Attenzione! I brani del libro possono essere usati in due modi diversi o come prova d'ascolto o come prova di comprensione del testo scritto Nelle registrazioni audio si sentono le voci degli autori Test B2.1 2. Completa il testo inserendo le congiunzioni della lista Pagina 13 Che bello leggere! Si dice che i nostri giovani non legano Infatti, secondo i dati statistici, benché ce ne siano alcuni che leggono molto la maggior parte non legge affatto Dobbiamo trovare il modo per riuscire a ridare loro una motivazione affinché si avvicinino alla meravigliosa pratica della lettura di un libro benché ormai la tv e internet siano sempre più preferiti da tutti Leggere è importante perché significa appropriarsi delle esperienze di migliaia di personaggi immaginari e farne tesoro Le esperienze acquisite con la lettura saranno così utilissime per affrontare i problemi della vita prima che siano irreparabili Le mille difficoltà che ogni adolescente si trova ad affrontare sono le stesse che i protagonisti dei grandi romanzi di formazione si trovano ad affrontare L'amore perduto, l'odio, la vendetta, la rabbia e il senso di impotenza possono piegare un giovane ancora immaturo prima che impari direttamente dall'esperienza a costo di grandi errori Invece, chi ha letto molto ha interiorizzato decine, centinaia di esperienze simili cosicché può trovare più facilmente delle soluzioni Cade ragazzi, sottraete qualche decina di minuti al giorno al vostro girovagare senza meta sui media sociali e dedicate quel tempo a leggere un libro Test B2.1 4 Completa la storia della pizza con le parole della lista Pag.14 La pizza All'inizio la pizza era una focaccia chiamata pita fatta di frumento impastato con acqua e poi cotto Si tratta di una ricetta antichissima che fa parte del patrimonio alimentare dell'intera umanità La vera rivoluzione nell'arte della focaccia si ebbe a Napoli con l'avvento del pomodoro nei primi anni del XVIII secolo Qui infatti nacque la pizza La prima pizza Margherita ha un anno di nascita ben preciso il 1889 Raffaele Esposito, noto pizzaiolo napoletano fece omaggio alla regina Margherita di Savoia in visita con il marito Umberto I in città di una pizza con i colori della bandiera italiana il bianco, la mozzarella, il rosso, il pomodoro e il verde, il basilico Il segreto dell'invenzione della pizza napoletana e del suo successo nella stessa città che le ha dato i Natali sta nel fatto che i suoi ingredienti costano poco e nel fatto che non è difficile da preparare In più non va dimenticato che si tratta di un piatto che sazia facilmente la fame Infatti ha un notevole apporto calorico la pasta per i carboidrati, la mozzarella per le proteine il pomodoro per le vitamine e i sali minerali Per queste sue caratteristiche la pizza risolveva magnificamente il problema del pasto quotidiano dei napoletani i quali godevano anche di una particolare agevolazione mangiavano la pizza oggi e la pagavano dopo otto giorni Il sapore eccellente della pizza napoletana ha conquistato il mondo Però, se la pizza varia molto di paese in paese a Napoli è protetta dal marchio STG specialità tradizionale garantita ottenuto nel 2008 che identifica con precisione gli ingredienti da impiegare e la tecnica da usare dalla lievitazione della pasta al tipo di forno alle modalità di cottura Con il tempo, pur nel rispetto della tradizione ci sono stati però anche qui dei piccoli cambiamenti a volte invece della mozzarella viene usata la provola e al posto della passata fatta con i classici pomodori pelati si impiegano i pomodorini Test B2.1 8 Completa la storia del famoso motore della piaggio con le parole della lista Pagina 19 La mitica Vespa Il motore nacque negli stabilimenti della piaggio L'ingegnere che lo progettò con radino da scanio voleva creare un mezzo di trasporto sicuro maneggevole facile da usare ed elegante Per rendere la guida più agevole pensò di posizionare il cambio delle marce sul manubrio Per facilitare la sostituzione delle ruote pensò a un braccio di supporto simile ai carrelli degli aerei e infine ideò una carrozzeria capace di proteggere il guidatore di impedirgli di sporcarsi o scomporsi nell'abbigliamento La posizione di guida della Vespa era pensata per stare comodamente e sicuramente seduti anziché pericolosamente in bilico su una motocicleta a ruote alte Dal nuovo progetto nacque una soluzione assolutamente originale e rivoluzionaria rispetto a tutti gli altri esempi di locomozione motorizzata a due ruote Con l'aiuto di Mario Deste suo disegnatore di fiducia a Corradino d'Ascanio bastarono pochi giorni per mettere a punto la sua idea e preparare il primo progetto della Vespa prodotto a Pontedera nell'aprile del 1946 Il nome del veicolo fu coniato dallo stesso Enrico Biagio che davanti al prototipo che aveva una parte centrale molto ampia per raccogliere il guidatore e anche una vita stretta esclamò Sembra una Vespa e Vespa fu Test B2.2 3 Completa il testo con le parole della lista Pagina 26 Di che segno sei? Ariete Questo è un segno di grande azione creativa L'individuo Ariete ha bisogno di agire e di organizzare è originale e rifiuta di venire organizzato o dominato da altri può essere egoista è coraggioso e apprende rapidamente Doro è un segno molto stabile in cui sono presenti testardaggine e molta possessività come l'animale si muove e pensa lentamente ma nel momento stesso in cui impara qualcosa lo assimila in modo duraturo i tori detestano i cambiamenti e possiedono il dono di saper maneggiare il denaro Gemelli I gemelli sono irrequieti ed amano raccogliere informazioni preziose Sono versatili ragionano molto rapidamente e sono troppo impazienti di conoscere tutto e in fretta Cancro Questo è il segno della maternità della tenacia del sentimento profondo della malinconia e della irascibilità Le persone di questo segno sono molto emotive e munite di uno spiccato senso di protezione verso il proprio nucleo familiare Hanno una memoria di ferro e collezionano ogni genere di cose degne di importanza Leone Il leone è il segno del potere I nativi di questo segno hanno volontà e determinazione che sono però unite alla gentilezza I nativi del segno infondono un senso di fiducia e possono rivelarsi grandi cacciatori del sesso opposto Essi sono dei dirigenti nati Test B2.2 6 Completa il testo con i connettori della lista Pagina 29 Chi è la Gioconda? Chi sarebbe la Gioconda? Il ritratto esposto al Museo del Louvre di Parigi? Ora il mistero sembrerebbe svelato grazie a uno studioso appassionato il professore Giuseppe Pallanti Infatti da un documento trovato da ricercatore emerge con chiarezza che la Gioconda Lisa Gherardini la modella utilizzata da Leonardo per il celebre ritratto era la moglie del mercante fiorentino Francesco del Giocondo da cui il nome di Gioconda La donna morì il 15 luglio 1542 a 63 anni In effetti il documento è un registro delle morti avvenute nella parrocchia di San Lorenzo Scorrendo i nomi si vede quello di Lisa Sant'Orsola in pieno centro di Firenze era il monastero dove la donna vedova e malata si ritirò negli ultimi anni della sua vita Qui era assistita dalla figlia Suor Lucia Il documento racconta anche che al funerale di Lisa Gherardini partecipò l'intera parrocchia di San Lorenzo perché la donna era molto conosciuta Tuttavia sulla questione gli esperti si dividono Monna Lisa Gherardini non è la donna raffigurata nella Gioconda all'Uvr lo afferma l'esperto di Leonardo Alessandro Vezzosi direttore del Museo Ideale di Vinci riferendosi a quanto scoperto a Firenze dal professore Giuseppe Pallanti secondo Vezzosi da sempre convinto di questa tesi la Gioconda era l'amante per ora sconosciuta di Giuliano De Medici il vero committente del ritratto esposto a Parigi in conclusione forse non sapremo mai la vera identità della Gioconda però queste ricerche storiche sono in ogni caso molto interessanti test B2.3 1 inserisci nel testo le parole della lista pagina 38 alle amiche adolescenti come avere stile questi consigli cara amica te li dà una modella che lavora nel campo della moda da almeno un decennio e che ha faticato molto per realizzare il proprio sogno essere una donna sana ed affascinante al di là delle mode effimere e dannose come quelle di un'eccessiva magrezza cara amica devi sapere che non c'è un abito o un abbigliamento che ti possa rendere affascinante perché avere classe significa essere a proprio agio con il proprio stile e indossare i vestiti e gli accessori che ti fanno sentire bene inoltre è importante che tu sia disinvolta con chiunque il segno distintivo di una ragazza affascinante è che si sente a proprio agio quando conosce persone nuove e che ha il senso dell'umorismo in più è una ragazza amichevole e mai superba o arrogante per quanto riguarda l'aspetto fisico puoi avere stile indossando qualsiasi cosa a patto di non essere trascurata potresti indossare una maglietta con un disegno originale o con un logo particolare anche la felpa giusta ad esempio a colori vivaci con il cappuccio può essere una grande aggiunta al tuo guardaroba potresti indossare un top senza spalline e sopra una giacca sgargiante o una giacca dorata con un sacco di tasche e cerniere potrebbe andare bene anche una giacca di pelle indossa degli abiti carini soprattutto durante le feste abbina un capo a mezze maniche o senza maniche con degli shorts i colori eccezionali per gli abiti sono color oro viola nero rosso e verde usa le cinture devi indossare i pantaloni giusti puoi indossare diversi tipi di pantaloni per avere stile dai jeans aderenti ai pantaloncini da basket dipende da quello che ti fa sentire bene e che si abbina al tuo top non devi indossare né vestiti troppo aderenti né troppo abbondanti devi anche metterti delle scarpe adatte al tuo stile le scarpe possono essere belle e semplici oppure del tutto stravaganti per avere stile punta sull'eleganza oppure scegli un look casual con scarpe da ginnastica infine anche gli accessori sono essenziali ecco alcuni accessori che puoi provare per dare un tocco di stile al tuo abbigliamento orecchini a cerchio dorati o argentati orecchini di brillanti collane nere catene anelli grossi braccialetti forse anche un piccolo piercing al naso potrebbe contribuire a creare uno stile particolare in ogni caso care amiche senza autostima e salute non si avrà mai un aspetto affascinante test b2.3 2 completa il testo con i verbi della lista pagina 40 la lingua italiana l'italiano è la lingua ufficiale dello stato italiano l'italiano è una lingua neolatina o romanza deriva cioè dal latino parlato volgare furono i romani che portarono il latino nel resto della penisola l'italiano si fondò per ragioni storiche su una famiglia di dialetti quelli toscani le altre grandi famiglie di dialetti sono quelle settentrionali quelle centrali e quelle meridionali l'espansione dei dialetti toscani avvenne nel tredicesimo secolo e fu dovuta al prestigio e al potere economico dello stato di Firenze Dante Alighieri il più grande poeta italiano nacque in Toscana nel tredicesimo secolo Dante è considerato il padre della lingua italiana infatti scrisse il suo capolavoro la divina commedia in Toscano inoltre sostenne nel suo libro De vulgari eloquentia la necessità di creare un italiano con il meglio dei vulgari elaborati dagli intellettuali nei vari centri di cultura a partire dalla seconda metà dell'ottocento l'unità politica italiana e il diffondersi dei mezzi di comunicazione di massa contribuirono a formare una moderna lingua nazionale fondamentalmente toscana ma con notevoli apporti che provennero dai centri italiani di maggior prestigio culturale economico e sociale accanto all'italiano o toscano rielaborato sopravvissero numerosi dialetti regionali che sono per lo più di origine latina test b2.4 1 completa con le parole della lista attenzione ci sono alcune parole in più pagina 52 la cucina italiana la cucina italiana al singolare non esiste esistono le cucine italiane al plurale infatti l'italia delle cento città è anche l'italia delle cento cucine e delle mille ricette il carattere che maggiormente contraddistingue il paese è la varietà che si riscontra nella sua storia e nella sua cultura questo fatto non è per niente negativo anzi contribuisce a rendere l'italia straordinariamente ricca e attraente questa varietà si riscontra anche nella gastronomia che è lo specchio di un'esperienza storica dominata a lungo dal particolarismo e dalla divisione politica ci sono però anche alcune caratteristiche comuni che più che nella tipologia dei piatti si riscontrano in alcuni tratti comuni l'amore della pasta come primo piatto l'uso quasi esclusivo del vino come bevanda la suddivisione dei pasti e delle portate ogni regione italiana ha dei piatti tipici alla base dei quali ci sono ingredienti che provengono dai prodotti della zona ad esempio nelle Alpi e nel nord Italia ci sono molte ricette a base di formaggio e burro nell'Italia del sud a base d'olio d'oliva la pizza è nata a Napoli i tortellini sono di Bologna la pasta è un tipico piatto dell'Italia meridionale i risotti sono dell'Italia settentrionale test B2.4 4 completa il testo con le parole della lista pagina 55 di che segno sei? bilancia i nati sotto il segno della bilancia ricercano come evidenzia il loro simbolo e ci dice il nome del segno l'equilibrio sopra ogni cosa agiscono nel modo migliore nei rapporti sociali sono molto pratici disinvolti e senza pregiudizi sono strateghi nati e possono rivelarsi completamente impersonali Scorpione i nati sotto il segno dello scorpione sono pieni di risorse profondi seri ed hanno un forte magnetismo fisico sono spesso autoritari e possiedono la capacità di scoprire il punto debole degli altri nel caso in cui diventaste nemici di uno scorpione fate attenzione perché egli aspetterà il momento opportuno per attaccarvi Sagittario i nati sotto il segno del Sagittario sono pieni di fiducia felici allegri e molto sinceri sono compagni fedeli sebbene siano sempre con la testa fra le nuvole hanno una mente molto attiva ma sono inclini alla distrazione poiché mancano di disciplina e non amano concentrarsi su qualcosa troppo a lungo Capricorno i nati sotto il segno del Capricorno sono notoriamente dei grandi diplomatici sanno essere responsabili ma anche materialistici e spesso pessimistici tendono ad essere un po' snob desiderosi di raggiungere il successo nel lavoro e nella società Acquario è questo il segno degli ideali umanitari e della fratellanza gli acquari cercano di migliorare la vita dei colleghi e il loro potere proviene dall'intelletto sono distaccati impersonali e credono nella giustizia sociale pesci il simbolo del segno è formato da due pesci ognuno dei quali nuota in direzione opposta ciò significa che ai pesci manca la capacità di stabilire e fissare una direzione sono emotivi e sensibili e possono essere influenzati sia in modo positivo che negativo poiché sono molto comprensivi e credono nella bontà del prossimo spesso riescono ad essere pratici e realisti test b2.4 5 inserisci nel testo gli aggettivi della lista pagina 57 carnivoro o vegetariano? da molto tempo ho deciso di diventare vegetariano lo sono diventato grazie ai miei animali domestici un cane e una gatta con cui sono cresciuto e mi hanno dato l'affetto dei veri amici poi crescendo ho visto l'orrore delle condizioni crudeli di vita riservate agli animali di allevamento è indescrivibile la situazione di queste grandi industrie della morte e della macellazione in confronto le fattorie del passato erano per gli animali un paradiso terrestre in più l'alimentazione carna è anche un grosso problema ecologico è meglio nutrirsi direttamente dei cereali che utilizzare il terreno agricolo per nutrire animali destinati al macello oggi la zootecnia globale è ritenuta un fattore centrale nell'uso di risorse alimentari e idriche inquinamento delle acque uso delle terre deforestazione degradazione del suolo ed emissioni di gas serra un altro effetto positivo del mangiare meno carne sono gli effetti evidenti per la nostra salute da questo punto di vista è meglio anche mangiare solo prodotti di stagione perché sono più freschi inoltre sarebbe meglio comprare prodotti agricoli coltivati nelle vicinanze infatti quando si compra una banana delle antille si consuma anche il petrolio necessario al suo trasporto verso i paesi ricchi il risultato è inevitabilmente un maggior inquinamento atmosferico da quando sono vegetariano mi sento più vicino alla natura e soprattutto mi sento più coerente con me stesso e più leale con i miei amici animali test v2.5 2 inserisci le parole della lista ce ne sono alcune in più pagina 68 un vecchio film da rivedere Rocco e i suoi fratelli il titolo del film è Rocco e i suoi fratelli la regia è di Lucchino Visconti gli interpreti principali sono Alain Delon Renato Salvatori Annie Girardot Roger Hanin e Katina Paxinou il tema di cui tratta è quello dell'immigrazione un argomento ancora attuale il film è bellissimo guardare Rocco e i suoi fratelli è come guardare un dipinto del Caravaggio si rimane rapiti per il realismo estremo per le immagini chiare e la luce netta la storia della famiglia di Rocco è di quelli senza troppo speranze si tratta di una famiglia del sud che nel periodo del boom economico italiano cerca di fare fortuna arrivando a Milano Visconti ce la racconta benissimo questa Milano degli anni 60 fredda dura ma disponibile e pronta ad offrirsi a chi arriva per lavorare i quattro fratelli di Rocco sono come bimbi davanti all'albero di Natale quando all'inizio del film arrivano alla stazione di Milano ma presto i loro destini si divideranno e ben poco rimarrà dei loro sogni solo Rocco tornerà indietro ma la sua innocenza e il suo primitivo candore sono perduti per sempre in quel periodo storico gli immigrati non arrivavano da oltre confine ma dalla stessa Italia molti non ce la facevano ma la maggior parte riuscirà a fare fortuna e diventerà la colonna di un'intera struttura sociale futura bisognerebbe che se lo ricordassero i tanti figli di emigranti i nipoti di Rocco e i suoi fratelli test b2.5 6 complete il testo con le parole della lista attenzione ce ne sono alcune in più pagina 72 vivere per se stessi se vogliamo riappropriarci della nostra libertà dobbiamo liberarci dai condizionamenti della società del consumo a tutti i costi il primo portatore di questi è la televisione per riappropriarci della nostra libertà sarebbe meglio limitarne l'uso perché così come la società dei consumi riduce l'uomo alla sua dimensione economica di consumatore la televisione riduce l'informazione alla superficie l'immagine più che un oggetto l'automobile è il simbolo della società dei consumi in più è un oggetto che produce diversi tipi di inquinamento tra cui l'aumento del effetto serra si potrebbero preferirle i mezzi di trasporto pubblici o anche quelli più verdi come la bicicletta un'ottima idea è anche la volontà di abitare vicino al luogo di lavoro in modo di non avere bisogno della macchina e di guadagnare in questo modo tempo e denaro un altro oggetto che è diventato una vera e propria dipendenza è il telefonino un falso bisogno creato apposta dalla pubblicità sarebbe sufficiente non rincorrere l'ultimo modello di cellulare di solito sempre molto caro quando quello vecchio che possediamo funziona perfettamente liberarsi dai condizionamenti della società dei consumi è fondamentale per chi voglia cercare di vivere per se stesso invece di riempire il vuoto esistenziale con degli oggetti visti come simboli invece che come semplici macchine test B2.6 3 completa il testo con le parti mancanti pagina 88 non si affitta agli immigrati non lavoriamo con extra comunitari di colore era scritto su un cartello appeso da venerdì sull'ingresso di un'agenzia immobiliare nello storico quartiere dell'oltre torrente a Parma la polizia lo ha sequestrato oggi e ha denunciato il titolare dell'attività il 29enne Gian Paolo Barra per violazione della legge sul razzismo ma il ragazzo si difende non sono affatto razzista volevo aprire un caso perché a Parma nessuno vuole affittare agli extra comunitari specialmente se si tratta di africani secondo Barra su 100 parmigiani che hanno casi in affitto 89 non vogliono saperne di avere come inquilini degli stranieri di colore e anche quelli che non lo specificano dall'inizio quando si trovano di fronte a una famiglia di africani che pensano di affittare l'appartamento anche se con un regolare lavoro e referenziati rifiutano e anzi se la prendono con i responsabili dell'agenzia perché sostengono non si sa mai quante persone vanno effettivamente ad abitare nell'appartamento sapevo che il schiavo di andare incontro a una denuncia ha spiegato Barra sia durante la dichiarazione spontanea rese in questura sia parlando con i giornalisti ma la verità è che mentre io non ho nulla contro le persone di colore ricevo continuamente insulti dai proprietari di appartamenti ai quali mando extracomunitari in cerca di case da affittare e il fenomeno è molto più accentuato qui in città che non in provincia test B2.8 6 completa il testo con le forme verbali della lista pagina 118 italiani con la valigia in un articolo scritto per la rivista Esquire negli anni 50 Alberto Moravia paragonava gli atteggiamenti di quattro nazionalità alle prese con il rito turistico un francese visita un paese straniero un tedesco lo studia un inglese ne fa la casa sua un americano se lo mangia un italiano avrebbe potuto aggiungere il famoso scrittore chiede quanto costa passione per gli acquisti è leggendaria come potrebbe affermare qualsiasi accompagnatrice di gruppi dopo una giornata trascorsa con comitive di italiani scatenati nella casba del Cairo o di Algeri come al solito vorrei evitare di offrire elaborate spiegazioni del fenomeno ma dopo aver visto italiani capaci di sprecare metà vacanza alla ricerca di un orologio swatch e averne conosciuti altri che nei templi dell'Oriente compravano statuette souvenir del Buddha prima di ammirare l'originale e qualche volta invece di ammirare l'originale non posso negare di essere rimasto turbato anzi credo proprio che sia quasi inconcepibile un simile atteggiamento chissà forse siamo un popolo di commercianti e non riusciamo a convincerci che andare per acquisti crea quasi sempre soltanto bagaglio in eccesso ed è uno spreco di tempo prezioso che potrebbe essere impiegato altrimenti riposando ad esempio oppure mangiando test B2 punto 10 1 completa questo dialogo con i verbi della lista pagina 142 la moda eccentrica ma che cosa hai fatto un tatuaggio ti piace si tratta di una farfalla mia madre non voleva ma alla fine ce l'ho fatta a convincerla la farfalla mi è stata tatuata da Marco quel ragazzo che lavora nel negozio nuovo che hanno appena aperto in centro sì mi piace è molto bello non è eccentrico e poi sul braccio ormai ce l'hanno tutti io invece ne ho fatto uno sulla schiena è un drago molto bello piccolo ma pieno di colori lo vuoi vedere? me lo farei vedere quando andiamo al mare sai che Susanna si è messo brillantino sul dente davvero? mi sembra abbastanza normale una moda che secondo me è veramente stravagante è quella di farsi mettere negli occhi punti luce o piccoli gioielli in platino in Giappone poi c'è chi si mette protesi dentari per incisivi affilati come i vampiri mamma mia che moda la moda è vista dalla gente almeno all'inizio come un qualcosa di eccentrico un po' bizzarro nel passato pensa che andavano di moda dei busti strettissimi e molte donne non potevano respirare per questo nell'ottocento si sveniva naturalmente le donne e poi non va dimenticata la moda dei tacchi alti si rischia di cadere se ci si mettono delle zeppe troppo alte mi è venuta in mente un'altra moda eccentrica nel settecento dei parruconi bianchi erano portati dagli aristocratici che venivano preparati e pettinati dai parruccheri credo che in quel modo sia nata quella professione si dice paese che vai usanza che trovi ma penso anche che ogni epoca abbia le sue mode hai ragione ognuno ha le sue abitudini le sue tradizioni ma soprattutto ognuno ha le sue mode vedenze a volte bizzarre soprattutto perché totalmente opposto a quello che noi italiani reputiamo bello e piacente a me piace molto la moda dei capelli lunghi per gli uomini quella degli anni settanta oggigiorno non si vedono più i cosiddetti capelloni sì le mode cambiano e anche velocemente nel passato o più recente avrebbero pensato che un piercing sulla lingua fosse il massimo della stravaganza ora sono d'accordo con te in conclusione direi che chi non segue la moda sembra che sia un incapace un insicuro l'altro ieri ho incontrato Cinzia si è tagliato i capelli e si le è dipinti di verde tutti la guardavano e lei sembrava essere completamente su agio lei che a scuola era così timida sembrava che avesse cambiato carattere forse la moda aiuta a fare parte di un gruppo che ne dici